Tutto cominciò con una pallottola. Basil aveva perso tutto. Io sono Basil. Lo so, tu vieni con me. C'è una famiglia che ti adotterà. Ma un fantastico incontro renderà possibile... Ho trovato chi ha fabbricato la pallottola che ho in testa. Pronti per il seguito, ragazzi? ...la sua incredibile rivincita. Dal regista dei Il Favoloso Mondo di Amelie. Il film più sorprendente dell'anno. Sì, io... Danny Bull, l'esplosivo piano di Basil. Dal 17 dicembre al cinema.